L'arbitro gli indica la corretta posizione, ancora Fanna, Fanna riesce a dare un buon pallone, ecco che ancora è in grado, sorgato, il tiro, gol! E' stato Sacchetti con un tiro incredibile, con un tiro splendido, accogliere il bersaglio, beccato la traversa, il pallone schizzato alle spalle di Ipcovic. E' stato un gran lavoro quello di Fanna, lo rivediamo, ecco Fanna, guardate un pallone delizioso, è pronto allo scatto, doppio tripling avete visto da parte di Sacchetti, solide e da fuori, non ha potuto farci niente, Ipcovic, splendido il gol, 34esimo del primo tempo, il Verona ha pareggiato con, eccolo qui, Fanna numero 7, pallone lanciato in avanti, lascia di Gennaro, Sacchetti si accorge l'avversario, lo salta, fa rimbalzare il pallone e di collo pieno destro, scaraventa in rete, è l'1 a 1, risultato parziale alla fine del primo tempo, col quale vi lasciamo.